Puntata del daytime numero... Mani! Aiuto dalla regia! E mo'? Puntata del daytime numero 70! Sigla! No, sigla lo dico io, salvo, sigla è... In questa finale ci saranno... Quattro dreamer, sono tutte ragazze. Cominciamo a conoscerla prima, Ornella. Viene dall'Apoli, wey! Sono in finale e sono molto contenta. La prima puntata mi sono sfidata con Emanuele, che è stata una bella sfida. Il mio slam è molto bello, a me mi piace molto perché mi dà molta grinta. L'ho vinto io e sono passata agli semifinali, poi ho vinto le semifinali facendo il music jam, che sono stata molto contenta di averlo fatto. Eccoli qui, Josie e Ornella se la giocano. Fa direttamente il finale! Ornella! È il turno di Beatrice. Lei ama la danza classica, infatti è sempre vestita con un tutu, che indossa anche durante le coreografie e poi. Rivediamolo insieme. Il mio slam è un petto di neoclassico. Beatrice! Così i pensieri nascono, nella mia mente giocano, mi sembra rinfattire, ma mi lascio trasportare. Vince! E accede! Direttamente! Alle semifinali di Music Gate, Beatrice! Continuerà a giocare con noi! Beatrice! Quando ho vinto contro Simone, un po' ero felice, un po' mi dispiaceva. Ora in finale mi batterò contro Cleo, sarà una sfida molto dura, perché lei è molto brava, e vediamo come andrà a finire. A Venezia non c'è solo la qualta, ma c'è anche Cleo! E con l'ombiccio! È la prima puntata che ho fatto a Music Gate contro l'enzo. Io ho scelto la canzone J.O. per i posti che doll, perché ovviamente è una canzone molto spiritosa, molto all'era. È stata molto bella, perché ovviamente viene offritta nel mio colore preferito. Mamma mia che cambiamento! Molto, molto chic. Pazzesca! Vince e accede alle semifinali. Lorenzo! Ho perso e poi nella semifinale in meno di pescato, con fortuna. I primi due dreamer che dovranno sfidarsi per ottenere il sesto posto qui e giocarsi la semifinale sono Emanuele e Cleo. Cleo è prontissima! vediamo che continua a giocare con noi. Cleo! Vorrei capire di più quel malessere dentro che tu. Va direttamente alla finale del 6 gennaio. Cleo! Australia, Africa, America... Asia! No, è anche il nome della trina. di essere più pulita nella coreografia. A volte tentenni. una cosa che mi ha veramente impressionato è stato lo slam di Asia che da lì ho capito che avrebbe vinto lei anche perché bastava guardare lo studio che veniva giù abbiamo vinto davvero. La prima puntata che ho fatto è stata con Federica. Ho vinto la puntata e sono andato in semifinale. Il primo finalista di Musicate è Asia! Ora sono qua alla finale. Lo sfiderò con Ornella e vedremo. Queste sono le quattro dreamer che giocheranno con noi alla finalissima di Musicate il 6 gennaio sempre sui Google. Nel frattempo potete andare sul nostro fantastico sito www.musicgate.ly.it per rivederle e conoscere meglio. Non volete andare sul sito? Tornate qui sempre domani per un'altra puntata del daytime di Musicate. Go! music day music day music day e conoscere meglio